Radio Puggini On Air Benvenuti e bentornati a Radio Puggini On Air questo episodio lo dedichiamo ad un approfondimento su un'intervista particolarmente intensa ed interessante che è andata in onda questa sera nel programma di martedì sulla 7, oggi 1 ottobre 2024 il programma condotto da Giovanni Floris con ospite Alessandro Di Battista vedremo insieme l'intervista a Di Battista l'analizzeremo e commenteremo insieme poi naturalmente vi invito se non l'avete ancora vista a rivedere la puntata e in particolare l'intervento di Alessandro Di Battista sul sito La 7 e i streaming o negli altri canali in cui sarà presente Di Battista ha affrontato tematiche delicate di grande rilevanza riguardanti le attuali tensioni in Medio Oriente ha fatto delle affermazioni che meritano una riflessione profonda in apertura dell'intervista Di Battista ha evocato un'immagine straziante l'altro ieri una donna ha celebrato il funerale di sua figlia e ha sotterrato soltanto una scarpa con un piede dentro perché le bombe israeliane hanno reso centinaia di bambini questa dichiarazione che colpisce per la sua crudezza è solo l'inizio di un discorso di Di Battista che denuncia il dramma umano di una guerra che sembra non finire mai con questo racconto Alessandro Di Battista sottolinea la sofferenza di un popolo che vive quotidianamente in un contesto di violenza e paura Proseguendo, Alessandro Di Battista ha citato cifre allarmanti riguardo alle vittime civili Il Libano in una settimana Israele ha ucciso 1100 civili in un paese pieno di povertà dove ci sono presenti molti campi profughi palestinesi Qui emerge chiaramente la sua critica verso le politiche israeliane ma anche verso un'opinione pubblica che spesso ignora o minimizza la portata di queste tragedie La sua visita ai campi profughi palestinesi Il Libano ha sicuramente segnato la sua visione e la sua comprensione della realtà in cui vivono queste persone Un punto cruciale della conversazione è stata la questione dell'occupazione Dice Di Battista Non ci sarà mai pace in Medio Oriente finché Israele occuperà territori non suoi Questa affermazione mette in evidenza la convinzione di Di Battista che la chiave per una soluzione duratura al conflitto risieda nel riconoscimento e nel rispetto dei diritti dei palestinesi Parla di apartheid e colonizzazione utilizzando un linguaggio forte per descrivere le politiche israeliane che a suo avviso perpetuano un ciclo di violenza e sofferenza La discussione si è poi spostata verso il concetto di terrorismo un tema delicato e controverso Di Battista ha affermato Esiste il terrorismo dal basso Evidentemente organizzazioni terroristiche islamiche ne esistono Ma esiste il terrorismo di Stato che oggi chiaramente è rappresentato soprattutto dallo Stato Israele Dice Alessandro Di Battista Qui la sua critica si rivolge non solo ai gruppi terroristici ma anche a come le azioni di uno Stato possano alimentare il conflitto e giustificare atti di violenza in nome della sicurezza nazionale Floris ha cercato di moderare il dibattito ponendo domande incisive e invitando Di Battista a chiarire la sua posizione Ad un certo punto Di Battista ha risposto in modo secco I morti palestinesi non interessano Dite a Bocchino che li tratta come animali E qui inizia uno scontro acceso tra Di Battista e Italo Bocchino che naturalmente costringerà Floris ad abbassare i microfoni più di una volta uno scontro molto acceso che vi invito ad andare a rivedere Di Battista e Italo Bocchino si danno a vicenda degli ignoranti eccetera eccetera e questa frase è molto forte I morti palestinesi non interessano Dite a Bocchino che li tratta come animali Questa dichiarazione ha scatenato reazioni forti non solo in studio ma anche nel pubblico di casa da casa, scusate, evidenziando la frustrazione e il risentimento verso una narrazione che secondo Di Battista ignora il dramma delle vittime innocenti Nel corso della conversazione Di Battista ha citato le invasioni israeliane del Libano sottolineando come queste non solo abbiano avuto un costo umano devastante ma abbiano anche alimentato un ciclo di violenza che perdura da decenni La sua affermazione è che Israele ha invaso il Libano quattro volte negli ultimi 46 anni e il riferimento a come queste azioni siano state giustificate con l'idea di portare la pace hanno messo in discussione le narrazioni ufficiali che spesso tendono a presentare le aggressioni come risposte legittime a minacce esterne La discussione si è poi spostata su una critica alla diplomazia occidentale con Di Battista che ha sottolineato come le potenze occidentali abbiano spesso sostenuto politiche di occupazione contribuendo così a perpetuare il conflitto Ha citato l'incoerenza di tali posizioni evidenziando la necessità di un approccio più equilibrato e giusto Un altro aspetto significativo dell'intervista è stato l'appello alla comprensione delle radici del terrorismo Di Battista ha fatto riferimento a Giulio Andreotti il quale aveva dichiarato che se fosse nato in un campo profughi palestinese probabilmente sarebbe diventato un terrorista Questo punto di vista per quanto controverso invita a riflettere sulle circostanze che possono portare un individuo a scegliere la violenza come mezzo di espressione In conclusione, l'intervista ad Alessandro Di Battista ha sollevato interrogativi importanti su una questione complessa e delicata come quella del conflitto israelo-palestinese Attraverso un linguaggio diretto e provocatorio Alessandro Di Battista ha portato alla luce le sofferenze delle vittime innocenti e le ingiustizie che caratterizzano la situazione attuale È fondamentale ora più che mai riflettere su queste tematiche e cercare di promuovere un dialogo costruttivo che possa portare ad una pace e duratura basata sul rispetto dei diritti umani e della dignità di ogni individuo indipendentemente dalla propria nazionalità o appartenenza etnica Vi ringrazio per averci ascoltato Vi invitiamo a riflettere su quanto detto oggi a rivedere la puntata di martedì sulla 7 Restate con noi su Radio Pugino NER per ulteriori approfondimenti e discussioni su temi importanti di attualità e commenti e analisi di interviste come questa che ci sembrano molto interessanti Buon proseguimento a tutti e al prossimo episodio di Radio Pugino NER